Comune di Milano e Google, insieme per fornire nuovi servizi ai cittadini e valorizzare la città con strumenti digitali, attirando i turisti, anche in vista di Expo 2015. I progetti congiunti sono stati presentati nella nuova sede italiana del Colosso di Mountain View, a pochi passi dai grattacieli di Porta Nuova Garibaldi. Il sindaco Giuliano Pisapia. Questa è la grande novità di una Milano che non dimentica il passato ma che guarda anche il futuro. Il fatto che nello stesso luogo, nella stessa zona ci siano i grandi grattacieli tra i più belli del mondo, grandi spatti di verde e anche sono rimaste le vecchie case di ringhiera che però sono dignitose da tutti i punti di vista, è il mix che io credo che sia ormai caratteristica fondamentale di Milano. Grazie alla collaborazione con l'Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio del Comune, che ha reso disponibili i dati in modalità Open Data, Google rende fruibili linee e orari del trasporto pubblico milanese direttamente su Google Maps attraverso la funzione Transit. Per attivarla si digita l'indirizzo e il punto di interesse su Google Maps e si seleziona l'icona Trasporto pubblico. La collaborazione prevede anche l'utilizzo di Google Street View per valorizzare e rendere accessibili alcuni luoghi iconici della città. I cortili interni del Castello Sforzesco, l'Arena Civica Giannibrera, il Parco delle Basiliche, la Rotonda della Baesana e i giardini di Villa Lonati, altri seguiranno nei prossimi mesi. Carlo D'Azaro Biondo, Presidente Area Sud-Est Europa, Medio Oriente e Africa di Google, sottolinea l'importanza di valorizzare la cultura. Milano in questo vivrà l'anno prossimo un momento importante con l'Expo, abbiamo voluto quest'anno investire il più possibile per essere presenti, per essere utili e per fare in modo che questo momento sia un momento in cui il mondo intero veda Milano offruendo delle tecnologie che permettono di capirle al meglio. Google nel 2015 collaborerà con il Comune nell'organizzazione di corsi aperti alla cittadinanza che si svolgeranno negli uffici milanesi della società.